Benvenuti in questa iniziativa organizzata dal Dipartimento di Architettura e Progetto che ha voluto, come sapete, utilizzare questa piazza nel cuore della città per cercare di portare fuori, di trasferire non solo agli addetti ai lavori ma anche ai cittadini romani e alcuni contenuti che hanno fatto importante questa città in una dimensione che non è solo del racconto ma anche una dimensione che dal racconto vada verso una proiezione. Guardare il passato serve naturalmente a pensare molto bene e in maniera più circostanziata al futuro. Abbiamo scelto per queste tre serate che sono state inaugurate ieri con una bellissima comunicazione della professoressa Claudia Conforti sulla città di Roma moderna quando Roma si era dato il grande progetto di diventare la capitale d'Italia e doveva quindi in qualche modo superare il traguardo di una prospettiva di un obiettivo molto importante che era quello di fare la città degli italiani e stasera continuiamo con un altro ospite a noi molto caro non solo perché è stato il professore della facoltà di architettura della sapienza di Roma ma è stato anche il professore del dipartimento che io oggi modestamente dirigo è un punto di riferimento per gli studiosi dell'architettura e della città di Roma che ci dedicherà una lezione sulla città barocca e come sappiamo ha costituito nei suoi studi è una sezione storica di riferimento importante anche per le categorie che poi lui ha sviluppato all'interno del suo lavoro Paolo Portoghesi che è qui con noi e che ringrazio veramente per aver accettato senza esitare l'invito che gli abbiamo rivolto e verrà poi il giorno dopo sarà la volta invece della città antica che ci comunicherà il professor Filippo Corelli tre persone tre figure importanti perché hanno in mente soprattutto la dimensione di Roma e che attraverso le loro ricerche hanno costruito direi una mappa cognitiva ma anche iconica straordinaria di questa città per cui noi adesso abbiamo visto un filmato introduttivo mentre c'era il banchetto quindi in una maniera anche un po' così informale su quelle che sono le ricerche che poi il dipartimento ha agganciato a questi tre grandi temi nel corso e che ancora diciamo sono attive all'interno del nostro dipartimento su queste tre grandi categorie e questi tre grandi temi ma il protagonista diciamo importante di questa serata è il nostro ospite queste forme di comunicazione per noi sono importanti le ho quasi definiti dei comizi di architettura perché i comizi come ci insegnano i nostri amici archeologi erano momenti che si svolgevano quasi sempre all'aperto in ambienti conviviali ma servivano soprattutto per cercare di trasferire una comunicazione forte salda su materie che erano decantate e che erano quindi in grado di poter essere trasmesse con grande chiarezza e per fare questo naturalmente ci vuole l'abilità l'esperienza e lo studio di persone che noi consideriamo ancora dei punti di riferimento e sono contento che ci siano tanti giovani qui e quindi io direi che adesso due parole le dice Stefano Catucci e d'accordo accogliamo il professor Portoghesi che è già munito di archetto permettetemi di esprimere grande soddisfazione per questa piazza bellissima piena di gente che è venuta qui a sentire un discorso sulla Roma barocca che noi abbiamo voluto chiedere in dono al professor Portoghesi proprio perché lui riesce a parlarci della Roma barocca non come se fosse una cosa consegnata al passato ma come una cosa viva e che ha anche ancora molto da dire a chi impara a guardare questa città e a chi magari vuole dare il suo contributo con il progetto siccome però so che come si dice un uccellino mi ha detto che domani uscirà un'intervista doppia una di Claudia Conforti intanto riconosco quelli che c'erano già ieri sera perché sono più coperti si sono vestiti più adeguatamente al clima della serata dico un'intervista doppia il professor Portoghesi e la professoressa Conforti su Roma occasionata da questo io vorrei chiedere visto che siamo all'aperto cioè tra amici vorrei chiedere il professor Portoghesi di darci una piccola anticipazione magari che cosa le hanno chiesto e che cosa ha detto Paolo hai già il microfono non serve benissimo allora diciamo la mia risposta è legata alle domande che mi hanno fatto la prima domanda era come stai in Roma che poi dà il titolo a queste manifestazioni e io ho risposto malissimo ho risposto malissimo ho detto io ho votato questa giunta perché speravo che segnasse un momento di rinnovamento per la città e invece vedo che la città sta applicando gli stessi criteri che io ero ancora un ragazzo e consideravo la rovina della città ecco io se potessi fare quello che voglio farei un monumento ad Antonio Cederna perché noi non abbiamo più o meglio la stampa di informazione non accoglie più proteste accoglie soltanto raccontini fatti in casa allora per quale ragione io sono scontento di aver dato il voto a chi si batte per il rinnovamento sono scontento perché appunto ha accettato il principio che a Roma non sono i piani che decidono dove si fanno le grandi opere ma sono i costruttori i quali comprano dei terreni a basso prezzo perché hanno una destinazione non importante e poi riescono a farli diventare terreni su cui si può costruire qualcosa di speculativo ecco naturalmente riconosciamo alla giunta il merito di aver un po' diminuito di aver abolito i grattacieli di Libeskind che francamente nessuno ne sentiva il bisogno Roma è rimasta una città orizzontale e lo è rimasta anche perché all'interno della città c'è sempre stata una cultura capace di proteggere il suo DNA la sua sinistronomia ancora oggi è uscito credo per opera di un di un giovane architetto un libro che proprio rilancia l'idea della città orizzontale pensando a delle città filie che possano nascere utilizzando il grande raccordo anulare come una specie di corso di una nuova città un'utopia intendiamoci però un'utopia che fa capire che bisogna pensare in grande è che ci sono dei giovani che lo fanno che vanno incoraggiati io mi ricordo che quando ero ragazzo sentivo parlare del famoso albergo Hilton che ormai abbiamo digerito qualcuno va a mangiare perché c'è anche un famoso un famoso chef ecco questo edificio che adesso noi consideriamo una parte accettabile della città è sorto nel luogo dove il piano regolatore del 31 prevedeva un piazzale panoramico simile a quello del Pincio e di Giannicolo quindi Roma è stata privata sempre per iniziativa dei costruttori la famosa immobiliare la famosa immobiliare riuscì come non lo sappiamo ma comunque riuscì a far cambiare destinazione a quella che il piano regolatore prevedeva vi racconto una storia vecchia però è una storia che i giovani devono sapere mentre molti ignorano completamente questo fatto per questo dico bisognerebbe fare un monumento a Cederna non gli abbiamo dato nemmeno una laurea o una riscausa in memoriam eppure è lui che ha salvato il cuneo della Via Appia che è una delle poche cose buone che noi lasciamo in eredità ai nostri figli mentre li lasciamo in eredità a una città indubbiamente peggiorata negli ultimi decenni questa è la ragione per cui io parlerò con entusiasmo di un periodo terribile della vita di Roma un periodo in cui non c'era la libertà non c'era una società capace consapevole di se stessa e capace di lavorare per la costruzione di una società nuova c'era però un gruppo di artisti che hanno saputo creare una profezia questa profezia di una città della libertà di una città in cui ci si può esprimere liberamente naturalmente nel campo dell'arte questo era permesso e quindi hanno approfittato almeno di questo spazio di libertà e quindi secondo me la storia che vi racconterò è una storia profondamente attuale cioè a un certo punto nonostante il potere nonostante diciamo l'aspetto quasi di prigione delle idee dominanti gli artisti sono riusciti ad affermare un'idea di città fatta per tutti una città che ovviamente ha i luoghi dei ricchi però anche i luoghi dove i poveri si possono sentire a casa loro Sandalla notava per esempio che a Roma pochi vivevano dentro casa delle classi inferiori stavano quasi tutti per strada avevano delle piccole case però sentivano la bellezza dello stare insieme e quindi diciamo la città celebrava la cosa più importante che l'uomo ha a disposizione cioè le relazioni tra gli uomini gli uomini si vogliono bene si vogliono male si guardano a Cagnesco però è questa la vita è questa che l'arte può mettere in rilievo risvegliando il desiderio della libertà che dall'arte poi può contagiare altri spazi io vi auguro che tra le persone presenti o qualcuno magari che vediamo in braccia mamma in fasce ecco tra questi qualcuno sia un portatore di questa idea di libertà che abbiamo quasi perso di vista e che indubbiamente si riflette sulla città perché la periferia rispecchia una società in cui la libertà della città non è permessa in cui le grandi idee vengono seppellite dalle operazioni speculative se voi andate in giro per Roma vedete per esempio che ci sono dei quartieri in cui ci sono delle strade di 6 metri in cui praticamente se uno sparcheggia la macchina da una parte non la può più parcheggiare dall'altra questo è il risultato della speculazione d'inizio sono i quartieri costruiti per esempio dall'immobiliare che poi nello stesso tempo costruiva invece a Vigna Clara le case esemplari bisogna che la città si renda conto che stiamo ancora a questo livello e che quindi lo stadio che certamente è una cosa necessaria che poteva essere fatto in un luogo della città scelto dai cittadini attraverso i loro rappresentanti sarà costruito lì perché poi alla fine sarà costruito mancia a destra e mancia a sinistra sarà lì soltanto perché è venuto in mente a un costruttore di guadagnare un po' più di soldi di quelli che avrebbe guadagnato senza speculare sul prezzo dei terreni d'altra parte credo che Berdini ha lavorato qui certamente si è formato nella facoltà di Roma e Berdini è stato cacciato da una giunta che appunto si freggia del titolo di rinnovamento e queste sono le cose che io ho raccontato no no così abbiamo fatto capire anche perché abbiamo chiamato lei a raccontarci qualcosa del barocco io mi eclisso e le lascio grazie dunque quella che vedete qui è la pianta del nolli noi oggi siamo in grado di rimpiangere questa città sulla base proprio di ciò che la modernità ci ha insegnato questa città guardatela bene è una città complessa una città piena di risorse diciamo di qualità ambientale contornata da una serie di ville che la circondano e che quindi assicurano un rapporto più salobre con la campagna che a quell'epoca era abbastanza inquinata dunque immagino che sia questo il tasto ecco ecco qui vedete una tipica immagine di quella città questa immagine serve per capire che il panorama di Roma non è soltanto città nel senso tradizionale della parola è paesaggio noi adesso sappiamo abbastanza bene parliamo spesso di paesaggio urbano ma se parliamo di paesaggio urbano lo dobbiamo anche a Roma che è forse la prima città che è riuscita ad esprimere questa vocazione di essere insieme il frutto del lavoro dell'uomo e il frutto della presenza della natura che ha offerto all'uomo anzitutto un canovaccio da riempire i colli che continuamente vediamo sotto gli edifici e poi invece la capacità dell'uomo di costruire la città ordinatamente seguendo un'intuizione positiva qui per esempio vediamo lo sforgere di molte altane queste altane sono in realtà dei cubi vissati sopra i palazzi gentilizi sono visibili dal basso e consentono una vista dall'alto insieme alle altane Roma è caratterizzata il panorama di Roma è caratterizzato dalle cupole che sono mentre le altane sono più o meno dei cubi le cupole sono delle semisfere quindi questo paesaggio urbano è ottenuto utilizzando queste due forme elementari che hanno uno straordinario prestigio proprio Galileo raccontava che appunto la natura è fatta dalle forme elementari che si combinano tra loro Roma barocca nasce perché c'era molto dietro di lei ma soprattutto c'erano due grandi profeti uno è Michelangelo Michelangelo è stato nel campo dell'architettura un profeta della libertà un profeta della sperimentazione un profeta del valore poetico che l'architettura può assumere attraverso la sua capacità metaforica di richiamare altre cose l'altro dei giganti che ha creato le condizioni che quindi è alla base dell'esplosione del barocco è Caravaggio Caravaggio come sapete adopera la luce in modo del tutto nuovo ci racconta le cose come se accadessero vicino a noi come se noi fossimo direttamente coinvolti in ciò che accade e quindi ci dà della storia sacra non un'immagine lontana non un'immagine eterea ma un'immagine concreta corporea e questa immagine ovviamente accende i sentimenti accende le emozioni e il barocco lascerà uno spazio molto grande a questa espressione dei sentimenti e delle emozioni ma vediamo quali altre eredità covano sotto il barocco qui vedete Giordano Bruno al centro in alto a sinistra campanella Galileo a destra Descartes Cartesio e Pascal è il 600 che vede nascere il barocco è anche il secolo della scienza il secolo in cui l'Europa fa un passo avanti gigantesco attraverso un filo che unisce una serie di grandi pensatori che effettivamente propongono una visione nuova del mondo Giordano Bruno che è al centro è quello che per primo parla in modo esplicito dell'infinito e quindi suggerisce agli artisti di indagare questo concetto che è uno dei concetti che ancora oggi costituisce uno stimolo impressionante perché gli scienziati ci dicono che l'infinito non esiste l'universo è finito per noi il nostro cervello invece facilmente pensa all'infinito e Pascal che vedete in basso a destra ci ha descritto proprio la condizione dell'uomo tra due abissi quello dell'infinitamente grande e quello dell'infinitamente piccolo ecco Descartes ha inventato la geometria descrittiva quel signore sulla sinistra Campanella stava proprio a Roma negli anni in cui un intellettuale di vaglia Urbano VIII diventa Papa e quindi accende speranze in una parte della cultura aperta ovviamente verso il futuro c'è una scena del Galileo di Brecht in cui lui fa vedere il distacco di Urbano VIII da le verità che Galileo aveva espresso e quindi l'abbandono della solidarietà che pure come cardinale aveva avuto nei confronti del grande scienziato e tutto questo avviene mentre lui veste i panni pontifici naturalmente Brecht giocava perché sul piano filologico le date non coincidono ma comunque ci fa capire come allora come ancora oggi la Chiesa sia nello stesso tempo un modo per contemplare il non visibile ma anche una catena che ci lega a molte cose visibili che non sempre sono quelle giuste ecco Ungaretti che è stato un grande poeta del nostro tempo diceva vivendo a Roma il barocco era una cosa che doveva finire per entrarmi nel sangue e credo che più o meno tutti voi abbiate avuto questa esperienza piano piano chi è nato in questa città inizia a conoscerla e a capire che per spiegarla fino in fondo è necessario illustrare questo concetto questo concetto che è stato inventato in fondo per dire male dell'arte barocca ma che poi si è rivelato invece importante per capire in profondità il senso di quest'arte Ungaretti parla anche di misura nella dismisura parla dice il barocco è anche il senso del cataclisma che è in noi la nostra disperazione questa sicuramente è la modernità del barocco che Ungaretti ha saputo cogliere meglio di tanti storici dell'arte cioè è effettivamente una celebrazione della vita una piena celebrazione della vita che però lascia spazio anche alla percezione di qualcosa che si sta esplodendo di qualcosa che ci inquieta profondamente ma passiamo ad illustrare la storia ha dei riflessi lenti questo scusate diciamo il barocco comincia all'epoca di Urbano Ottavo anche se qualcuno lo fa cominciare prima è un problema che stasera non tratteremo per semplicità perché si impone per la straordinaria qualità di chi ha saputo interpretarlo questa scultura di Bernini è indubbiamente un capolavoro unisce degli aspetti questa fedeltà al reale che sono di Caravaggio però ci porta in un mondo che non ha nulla a che fare con la realtà quotidiana in un certo senso Caravaggio sembra dimenticato in effetti Caravaggio in qualche modo apparteneva allo stesso ceppo di Giordano Bruno che fu ucciso nel 1600 e al quale è stato dedicato uno dei più bei monumenti di Roma semplice elementare senza retorica sta lì in mezzo a Campo di Fiori l'unica piazza di Roma in cui non c'è nemmeno una chiesa e in questo modo Giordano Bruno non ha offeso nessuno e però credo che senza rievocare i liberi vensatori che oggi non ci sono più chiunque ha coscienza di Roma barocca sa che deve qualcosa alla scoperta dell'infinito alla scoperta pervasiva della natura come qualcosa che non può non entrare anche nella città ecco questo signore era talmente dotato di qualità che effettivamente quando Urbano Tavolo ha conosciuto ha detto ma questo è il Michelangelo del mio tempo quindi io devo fare in modo che diventi importante quanto è stato Michelangelo per la generazione precedente era un personaggio un po' sbarazzino intendiamoci anzi per alcune cose meritava delle punizioni che poi non ha avuto proprio per la sua abilità questa per esempio era la moglie di un suo scolaro diciamo di un suo aiuto Costanza Bonarelli è diventata la sua amante poi però questa donna che evidentemente era un po' fatua si è messa col fratello di Bernini allora Bernini ha inseguito il fratello dentro a San Pietro con come si chiama una chiave di porco queste cose con cui si scassinano e fortunatamente non l'ha ucciso poi di nuovo l'ha inseguito dentro a Santa Maria Maggiore purtroppo Bernini volle vendicarsi di questo tradimento della traditrice per cui fece da un suo scherano ferire con un rasoio il viso di questa bellissima donna che peraltro lui ha rappresentato e quindi ci ha raccontato per l'eternità la bellezza ecco questo può sembrare strano che io racconti una cosa che c'entra poco con l'arte però bisogna capire che effettivamente insieme alla qualità insieme al fascino di quello che ha prodotto la città è una città piena di problemi una città tragicamente colpita da una serie di di drammi che ricordano in un certo senso anche la città moderna questa è la prima opera architettonica di Bernini un'opera abbastanza mediocre diciamo in cui non c'è granché di importante guardate per esempio la porta è un'opera di gusto manierista in cui non c'è ancora nulla che faccia presentire la grandezza di Bernini ecco la grandezza di Bernini nasce con il baldacchino Urbano Ottavo gli dà questo incarico da architetto e in un primo tempo Bernini propone questa soluzione la cosa geniale è l'utilizzo di colonne tortili più grandi di quelle originali che lui ha pensato subito in bronzo il coronamento però in un primo tempo quello che vedete qui è ancora abbastanza confuso non ha le stesse qualità plastiche del resto dell'edificio e a un certo punto Bernini conosce un giovane che aveva un anno o meno di lui quindi erano tutte e due 23 anni 24 anni legano subito nel senso che Bernini che era un favoloso diciamo favoloso che si impossessava delle idee altrui con estrema facilità in modo favoloso e quindi vede in borromini uno strumento prezioso che può consentirgli di arrivare nell'architettura allo stesso livello di qualità a cui era arrivato nella scultura erano ancora due cose imparagonabili ebbene probabilmente è dalla collaborazione dei due che nasce questa soluzione plastica affascinante che è veramente il manifesto del barocco qui vedete il disegno di Bernini a sinistra e il disegno di Borromini a destra tutte e due lavorano per individuare il modo giusto con cui coronare queste quattro colonne tutti e due si servono dell'angelo come dell'elemento fondamentale che può aiutare a trovare la soluzione giusta e Borromini si occupa molto del rapporto con l'edificio preesistente e questo fa capire la sensibilità non va dimenticato che come Caravaggio Bernini era un lombardo e senza i lombardi Roma non sarebbe la stessa probabilmente perché non c'è nulla di sicuro questo elemento conclusivo è il risultato di una visione plastica borrominiana lo si vede dal fatto che queste concavità contrapposte creano un dinamismo spaziale di straordinaria efficacia ancora Bernini in quegli anni costruisce nel collegio di propaganda fide una chiesa che qui vedete in un disegno di Borromini che l'ha rilevata prima di distruggerla come vedremo ecco Bernini sempre alle prime armi qui la collaborazione tra i due ritorna abbastanza importante perché senza la finezza dei disegni di Borromini fatti in punta di matita difficilmente questo sistema prospettico della profondità suggerita all'occhio avrebbe avuto una soluzione così efficace così perfetta dal punto di vista tecnico ecco quindi Bernini tecnico straordinario nel campo della scultura che riesce ad essere altrettanto bravo nell'architettura per opera di un suo collaboratore che viene pagato miseramente un decimo di quello che viene pagato a Berlini e però a palazzo Barberini in un dettaglio non importantissimo Borromini si esprime pienamente e si esprime reinventando quello che Michelangelo aveva profetato in quell'immagine che vi ho visto che ho proiettato all'inizio della cappella sforza cioè lavora sulla diagonalità contrappone alla frontalità del piano questa scomposizione diagonale che dà un senso a questo edificio che costituirà ancora un elemento importante nell'architettura di entrambi ecco la scala di palazzo Barberini da questa che è in fondo una copia sia pure raffinata di esemplari già presenti ce n'è uno qui dentro a palazzo Borghese un altro nel Quirinale dalla scala di palazzo Barberini in cui non c'è nulla di originale Borromini arriva improvvisamente a 34 anni a costruire un capolavoro la chiesa di San Carlino infatti non è come dovrebbe essere l'opera prima di un grande architetto no è probabilmente l'opera prima ma anche il capolavoro cioè ha un'età indubbiamente per un architetto abbastanza tenera 34 anni Borromini inventa prima questo chiostro che è un capolavoro di semplicità quindi quella nozione di barocco normale per cui il barocco è qualcosa di complicato di faraginoso eccetera non funziona assolutamente è un'opera di una semplicità straordinaria un'opera costruita con pochi soldi con un'abilità che è soprattutto l'abilità degli artigiani che hanno lavorato a costruire questa immagine affascinante contemporaneamente Borromini mette al mondo appunto il suo capolavoro la chiesa di San Carilino è un edificio straordinario perché da una parte non è altro che la continuazione di una ricerca la ricerca dell'edificio a pianta centrale addirittura la ricerca di San Pietro dall'altra invece è la soluzione affascinante nuova di un problema che aveva in qualche modo diviso l'opinione degli architetti nel periodo precedente cioè la chiesa doveva essere un organismo centrale come Michelangelo aveva affermato oppure una chiesa longitudinale pensate che Urbano VIII quando Paolo V ha allungato l'organismo di San Pietro che Michelangelo aveva immaginato centrale ma centrale davvero disse ma sicuramente verrà poi qualche altro papa che lo demolirà e riporterà la chiesa di San Pietro alla sua reale originaria statura qualitativa naturalmente Urbano VIII si è ben guardato dal fare però almeno l'idea gli era venuta forse prima che vestisse la tiara papale ecco Borromini compie un capolavoro ma vi siete chiesti mai per quale misteriosa ragione un architetto riesce a creare qualcosa di completamente nuovo ma legato al passato effettivamente qualcosa è cambiato nella visione dell'architetto se durante il rinascimento si pensava soprattutto alla perfezione si pensava a costruire qualcosa che avesse un suo valore geometrico assoluto per Borromini la geometria si è importante qui la vedete infatti in una interpretazione che discende da un suo disegno ma più importante ancora è il risultato cioè lo spazio questa chiesa ha un fascino straordinario perché in realtà è come se fosse una scultura di cera modellata appunto accarezzando questa scera plasmandola come se fosse una scultura ma diciamo realizzando un'architettura perché poi in effetti le forme sono forme archetipe dell'architettura i pilastri diagonali vengono da San Pietro la cupola è un'istituzione antichissima la luce è adoperata in modo affascinante e nuova ma sempre allo scopo di amplificare l'effetto dello spazio questo è il segreto qui vedete l'interno che appunto questa straordinaria qualità che è la continuità spaziale cioè è un po' come una conchiglia una conchiglia all'interno e all'esterno è la stessa cosa qui abbiamo diciamo una serie di elementi che si uniscono tra loro e formano un nodo solido un nodo dotato di una straordinaria forza plastica e dinamica nello stesso tempo naturalmente sempre per ricarare la dosso sul fatto che la nozione di barocco come complicazione non sta in piedi se andiamo sotto la chiesa vediamo come Borromini sia riuscito a semplificare ulteriormente a rendere l'operazione ancora appunto più semplice più elementare dimostrando che si può fare cosa nuova in architettura semplicemente dando il giusto valore allo spazio purtroppo stasera non c'è tempo ma se no vi leggerei un passo di Patrizzi in cui appunto si descrive lo spazio contemporaneo di Borromini in cui si descrive lo spazio proprio come qualcosa che si può come dire modellare attraverso le mani quindi come qualcosa di esteso cosa scoperta del resto fatta da Cartesio la rex estensa ecco questo è Pietro della Cortona abbiamo parlato finora dei due grandi ma merita un accenno anche il terzo grande che ha dato il là a Roma barocca anzitutto come pittore perché ha inventato questa pittura aerea disegnata sul cielo sì c'è anche una piccola allusione a una struttura architettonica una specie di griglia ma fondamentalmente è il cielo su cui si disegna questa ricchezza di elementi che Pietro da Cortona riesce a inserire nella volta di Palazzo Barberini ma Pietro da Cortona riesce non solo appunto a scoprire il cielo come si vede bene qui ma anche a scoprire la dolcezza della natura un elemento fondamentale per il barocco perché il barocco come vedremo ha bisogno di portare la natura dentro la città mantenendone la freschezza il candore ecco la prima opera di Pietro da Cortona è inserita nel paesaggio naturale la villa del Pigneto di cui sono rimasti pochi ruderi è un edificio che parte da Palladio che è il terzo genio che io non ho nominato ma che si potrebbe mettere insieme a Caravaggio e a Michelangelo sono effettivamente tutti e tre come dire complici tutti e tre possono essere accusati di aver preparato l'esplosione del barocco Pietro da Cortona partecipa a una moda la moda del bianco la moda del chiaro è una moda a cui partecipano tutti e tre i grandi architetti del barocco romano Pietro da Cortona lo fa all'interno di una chiesa la chiesa di San Luca e Martina in cui la presenza delle colonne serve in un certo senso a distruggere la chiusura dello spazio si legge l'interno della chiesa come qualcosa che lascia filtrare l'aria dall'esterno ed è effettivamente una celebrazione del bianco così come lo è la cappella Raimondi costruita dal Bernini in San Pietro e Montorio che come vedete appunto ha questo candore assoluto tutta realizzata in marmo statuario ed è anche importante perché in essa per la prima volta si vede questa scultura illuminata da una luce nascosta una luce che chi osserva la scultura non vede e crea l'illusione che effettivamente ci sia una luce propria della scultura questa è la cupola a Pietro da Cortona va riconosciuto il merito di aver creato un paesaggio urbano tra i più rilevanti della Roma barocca dico paesaggio urbano perché è stato lui che ha voluto farsi largo in mezzo alle case creando questo spazio e lo ha fatto per una ragione molto pratica siccome era una messa molto frequentata dai cardinali i cardinali avevano bisogno di arrivare in carrozza e quindi se la strada se la chiesa fosse stata come prima era in fondo a una strada le carrozze non potevano girare quindi questa meraviglia è nata da una questione pratica ma anche dalla capacità interpretativa dimostrata da questo grande pittore con una straordinaria vocazione di architetto ancora ritorniamo a Borromini Borromini inventa all'interno della compagine urbana che è molto fitta allora uno spazio incredibile cioè realizza un convento il convento dei filippini all'interno realizza una grande corte una corte di dimensione assolutamente non usuali per Roma e poi introduce l'oratorio con questa meravigliosa facciata in cui per la prima volta si assistiamo all'uso della curva concava all'esterno o meglio è una ripresa di un edificio di Antonio da Sangallo ma che qui acquista tutto un altro valore attraverso proprio il sapore spaziale che questa curvatura assume una curvatura che come vedete al centro si arricchisce di una seconda curvatura questa è la corte uno spazio straordinario una volta molto più ampio di quanto sia adesso fatto apposta perché appunto si mettessero all'interno delle piante di arancio e originariamente delle piante di arancio in vaso erano collocate anche sopra i grandi pilastri questo è l'interno dell'oratorio qui ci sarebbe da discutere sull'incontro tra musica e architettura Borromini amava sicuramente la musica lo dimostra il fatto delle stanzine destinate ai musicisti all'interno dei locali del coro qui dentro all'oratorio stanzine decorate con una sottigliezza con un amore che fa capire appunto quanto quanta importanza Borromini desse alla musica tra l'altro la collocazione in alto sia dei cori dell'oratorio sia invece come vedremo di Santivo fa sì che la musica appaia veramente come una musica celestiale e qui abbiamo il capolavoro l'altro capolavoro di Borromini forse meno riuscito sotto il profilo spaziale ma ancora più significativo per la ricchezza della soluzione esterna Santivo è stato costruito da tre papi e Borromini è riuscito a metterci dentro tutti e tre questi papi in qualche modo rendendo omaggio alle loro insegne in un primo tempo all'insegna di Urbano Ottavo attraverso l'Ape che in qualche modo è rappresentata in questa pianta e che qui vediamo anche al centro come elemento che ricorre nel pavimento è sotto Innocenzo X che viene realizzato invece il coronamento del cosiddetto tempietto che ripete la conversità raccordata di San Carlino ma introduce questo elemento imprevedibile lo introduce all'interno di una struttura che risponde alle esigenze classiche una delle definizioni che Ungaretti dava del barocco era classicismo forzennato è una considerazione su cui vale la pena di meditare perché in effetti Borromini adopera strumenti tipici della cultura classica le colonne le cornici i fregi e però ha il coraggio di introdurre anche degli elementi che sono in piena discrasia rispetto al resto sono in piena discrasia perché la chiocciola come sapete non ha una simmetria bilaterale è un elemento in cui manca questa simmetria esiste una simmetria rotatoria esiste una simmetria ripetitiva e naturalmente gli iconologi si sono sforzati di trovare un significato diciamo iconologico per questa spirale e ce ne sono mille a disposizione questa immagine che io vi mostro fatta dall'alto fa vedere come ci sia un corridoio che consente di arrivare fino in cima e c'è chi sostiene che questo corridoio era fatto proprio per gli studenti perché potessero come dire piacevolmente raggiungere la meta se voi guardate bene in alto c'è una corona una corona dall'oro quindi secondo alcuni Borromini aveva pensato questa spirale proprio come l'espressione della fatica della conquista della sapienza che poi si esprimeva in quella corona dall'oro che ci si metteva in testa che ancora oggi non a Roma ma in altre città italiane si vede spesso utilizzata dai laureati ecco questo per dirvi che Santivo la sapienza è uno degli edifici su cui più si è scritto e parlato negli ultimi 30 anni non si troverà mai una chiave univoca ma forse la sua forza è proprio nella chiave ambigua l'ambiguità è una delle caratteristiche dell'arte è anche una delle ragioni della sua ricchezza questa difficoltà di trovare la chiave ci coinvolge in modo tale che effettivamente rimaniamo stregati da questa architettura qui vedete anche i coretti da cui i cori i tre cori di una messa appositamente composta da grandi benevoli davano la sensazione che c'è stato nella revocazione di quest'anno ricorderà di questa musica celestiale perché vi faccio vedere questo dopo Santivo qualcuno se lo ricorderà perché Gideon ha scritto un libro sull'architettura moderna che per le persone della mia età era una specie di Vangelo che forse oggi è invece un reperto archeologico però effettivamente se voi sfogliate Gideon vi rendete conto che Gideon sostiene con forza che la chiesa di Santivo è uno dei primi edifici moderni perché perché effettivamente c'è una scomposizione oggi si direbbe una decomposizione una decostruzione questo che vedete è la madre di Boccioni che potete osservare alla galleria d'arte moderna sempre che sia possibile vederla sicuramente Borromini non l'aveva mai vista però l'accostamento fatto da Gideon ha un suo fascino e probabilmente riflettere su queste cose per un architetto è molto utile cioè una volta scoperta la magia dello spazio Borromini aveva in mano una chiave meravigliosa che poi è passata a chi? a un certo Frank Lloyd Wright sono due persone che non si sono conosciute nella vita perché c'erano tre secoli di differenza non si sono nemmeno conosciute nelle opere Borromini è ovvio ma diciamo Wright non sapeva nulla di Borromini non aveva mai avuto libri su Borromini quando è venuto a Roma qui al momento quando si fece la sua mostra a Firenze rimase colpito e Zevi lo accompagnava a vedere tutte le opere di Borromini e lui disse ma questo veramente sono io reincarnato ma perché? perché effettivamente in tutte e due c'è questa intuizione profonda che lo spazio è qualcosa che si può plasmare e che plasmare lo spazio è lodare la vita lodare la vita nella sua accezione più profonda ecco a un certo punto Borromini ha avuto la fortuna di un papa che lo amava un papa come vedete qui dipinto da Velasquez un papa severo un papa contraddittorio per tanti aspetti dominato da una signora una cognata che si chiamava Olimpia e che i romani hanno ribattezzato la pimpaccia di piazza Nauna effettivamente a piazza Nauna lei risiedeva nel palazzo dei Ponfili che era un po' la reggia della Roma del tempo ecco Innocenzo X da Borromini che fino allora aveva costruito in fondo soltanto San Carlino e aveva cominciato a costruire Santivo gli affida la cattedrale di Roma la chiesta di San Giovanni in cui lui realizza una sorta di Gerusalemme celeste in effetti ci sono le dodici nicchie che sono state poi riempite con delle statue ma in realtà sono dodici porte e sono proprio le porte che l'Apocalisse descrive le porte della Gerusalemme celeste e qui di nuovo prosegue nella sua indagine sullo spazio sul fatto che appunto gli elementi dell'architettura che nella normale tradizione rinascimentale erano soprattutto degli elementi fisici degli elementi visibili invece il protagonista qui è qualcosa di invisibile lo spazio lo spazio che solleva queste volte lo spazio che diciamo obbedisce al ritmo lo spazio a cui viene dato un sapore di apparizione sovrannaturale attraverso questa serie di angeli che sono studiati con grande cura non sono lasciati soltanto allo stuccatore sono pensati da Borromini anche per quanto riguarda il sorriso l'espressione i riccioli sono presenze che stanno appunto a dimostrare la forza del sovrannaturale che si impone alla visibilità umana ecco qui le nicchie illuminate dai grandi finestroni che a una certa ora del giorno appunto proiettano dei fari naturali naturalmente la luce del sole la proiettano su ciascuna delle nicchie ecco qui abbiamo un momento in cui la lotta tra Berlini e Borromini vede Borromini vincente Berlini aveva costruito due piani di un campanile sopra a San Pietro ne doveva costruire un altro dall'altra parte le critiche iniziarono quando si videro delle crepe nel basamento e Borromini che aveva lavorato a San Pietro con Materno disse chiaramente che che Maderno voleva costruire dei campanili leggerissimi e che quindi era l'idea berliniana di costruire invece dei campanili pesanti quella che aveva determinato le crepe per farla breve questa diatriba finisce con la demolizione dei campanili e qui sulla sinistra vedete una relazione di Borromini del tutto favorevole alla demolizione ecco ma è molto importante perché come vi ho detto tra i due nonostante la terribile inimicizia c'è anche una sorta di affinità a un certo punto Bernini che ancora in fondo tranne il baldacchino di San Pietro non aveva costruito nulla di rivoluzionario si rende conto che è a Borromini che deve in qualche modo rifarsi perché il successo di Borromini ovviamente lo colpisce e lo costringe a trovare una sintesi una sintesi quanto mai positiva e creativa perché diciamo il segno di questa influenza borrominiana si sente soprattutto nell'altare di Santa Teresa dove c'è una specie di cellula ovale simile a quella pensata da Borromini nell'oratorio dei Filippini che viene illuminato da una luce nascosta mentre l'altare l'edicola dell'altare come vedete si piega prima diciamo in convessità e poi in concavità quindi c'è questa complessità del movimento spaziale questo dinamismo che certamente definisce un momento di riflessione sulle conquiste borrominiane ma questo è un grande stimolo perché Bernini naturalmente approfitta di questa occasione per perseguire quello che è stato sempre diciamo la sua intuizione più feconda cioè l'arte come teatro effettivamente questa cappella è uno scenario un teatro in cui Santa Teresa sembra pronunciare le parole che sono scritte nella sua autobiografia quando appunto si sente trafitta da un angelo e illuminata dall'alto l'immagine è affascinante e l'aspetto teatrale è molto più complesso di quello che si può vedere da qui perché nella cappella come spettatori dei corretti laterali sono presenti i membri della famiglia Cornaro quindi è un caso in cui Vernini riesce a realizzare la sua idea del bel composto il bel composto cos'è? è appunto una composizione in cui pittura scultura e architettura collaborano in un'immagine sintetica e io direi che dovremmo unire a queste tre arti figurative anche la musica e il rito religioso perché sono aspetti fondamentali per questa qualità teatrale che Vernini perseguiva e che in questa cappella ha raggiunto perfettamente qui si vede appunto la derivazione dagli studi borromeniani sulla luce ecco naturalmente se questa comprensione reciproca può essere accettata anzi è dimostrata dai documenti perché il padre spada ci racconta proprio che Vernini considerava Borromini uno dei pochi che si intendeva di architettura solo solo che poi lui diceva ma non si ferma mai nel mettere una cosa dentro l'altra e dentro l'altra un'altra cosa ancora questa forse è la definizione più affascinante data da un nemico ma da un nemico che capisce e capisce anche quando dice che Borromini è un un buon eretico che forse è da preferire un cattivo cattolico a un buon eretico che dice molto sulla visione ideologica di Bernini ecco quando c'è stato il problema di Sant'Agnese della Fontana questa rivalità è esplosa in un modo evidente perché il Valesio ci racconta che per far prevalere la scelta sul modello berniniano il Bernini aveva regalato alla pimpaccia di Piazza Nauna un modello in argento allora l'argento era ancora un metallo rare questa qui vedete a confronto le soluzioni borrominiane molto più semplice con quella magistrale veramente geniale di Bernini che riesce a portare dentro la città la natura lo scorrere dell'acqua ecco questa è un'immagine che dà un'idea di come avvicinandosi alla fontana ci si sente in un altro mondo in cui è la natura che in qualche modo prevale e questo l'interno di Sant'Agnese a Piazza Nauna è un esempio in cui c'è collaborazione tra i due anche se la collaborazione non è gradita in effetti Borromini viene estromesso dal cantiere e Bernini invece viene chiamato per completare la chiesa io penso che effettivamente quando si entra in questa chiesa si ha l'impressione che tutto sommato questa lotta questa inimicizia questa disparità di vedute poi trova in qualche modo una sintesi e quindi in qualche modo si può dire che l'arte riesce perfino a superare questo scontro ecco Bernini naturalmente è fortunato perché alla morte di Innocenzo X che pure gli aveva fatto costruire la fontana quindi tanto nemico non era arriva invece un suo grandissimo amico Alessandro VII tra le tante commissioni che riceve c'è quella della Scala Reggia in cui l'esempio borrominiano della galleria di Palazzo Spada probabilmente ha qualche rilievo ecco le architetture più significative di Bernini sono delle architetture che riprendono motivi dell'architettura cinquecentesca rinnovandola però radicalmente attraverso una visione che è appunto quella del teatro del bel composto del uso della pittura come in questo caso all'interno della chiesa della Riccia Sant'Andrea Alquirinale è il suo capolavoro anche questo viene sfilato a Borromini che aveva ricevuto prima l'incarico del cardinale Sceva Bernini però a quell'epoca la chiesa non fu costruita perché il Papa non voleva che davanti al Quirinale si costruisse una grande chiesa e invece Alessandro VII che era amico di Bernini gliel'ha fatta costruire effettivamente è un grande capolavoro lo è perché qui diciamo il teatro è interpretato in una forma religiosa e fa capire che Bernini aveva messo la testa a partito quando in effetti si era dimostrato così impertinente la madre si era rivolta al Papa dicendogli qui bisogna diciamo questo mio figlio si sente il padrone della città e il Papa gli aveva detto ma facciamolo sposare effettivamente a 40 anni Bernini ha messo la testa a posto si è sposato e è diventato un cristiano profondamente cristiano diciamo che vicino alla morte per esempio ha dedicato tutte le sue energie alla buona morte cioè alla sicurezza di poter morire in stato di grazia ma vediamo questa chiesa che esprime effettivamente una visione religiosa anzitutto ci sorprende vedere il cielo dietro questa gloria ci sorprende vedere la figura del santo che guarda verso l'alto e che è dipinto in un momento in cui sembra che resista alla morte che gli viene inflitta dai legionari quindi è un momento fissato un momento in cui il santo è rappresentato appunto nel sacrificio della vita per essere poi invece rappresentato in alto nella statua che qui non vediamo queste sono altre cappelle berliniane e questa è l'espressione più completa di questa visione che mescola l'oro la luce e utilizza il marmo per la sua ricchezza di elementi coloristici è uno spettacolo ad organum plenum si potrebbe dire effettivamente Bernini nella abside di San Pietro riesce a costruire un momento della sua visione teatrale tra i più affascinanti e completi questa è la sua idea di palazzo che verrà poi completata dal Fontana ma molto significativo è il suo progetto del Louvre il primo progetto che verrà respinto dalla Francia in cui diciamo il classicismo si era fatta a strada e vedeva di malocchio questa espressione romana che con ogni probabilità si può riconnettere anche a un progetto borrominiano per San Paolo fuori le mura ma è la piazza di San Pietro l'edificio in cui la maestria di Bernini come architetto rifugge nella semplicità e nella grandiosità dell'insieme un insieme progettato insieme al Papa questo qui è uno schizzo del Papa quindi c'è stata una tale sintonia tra i due che effettivamente sfogliando il libretto di appunti del Papa ogni tanto ci sono dei segni apposti da Bernini che fanno capire come ci sia stato questo dialogo intenso qui un'immagine che tutti conoscete questa in qualche modo conclude l'opera borrominiana con questo accento realistico e nello stesso tempo con questo movimento scomposto asimmetrico che fa capire quanta strada aveva fatto Bernini e quanta sicurezza aveva acquistato attraverso la preziosa esperienza che aveva fatto e questo per dirvi che il rapporto con Borromini non si esaurisce mai completamente quella che vedete sulla destra è una delle ultime opere di Bernini è la cupola di quel ciborio della cappella del Santissimo Sacramento ebbene questa che è una delle ultime opere di Bernini Bernini si ricorda dell'opera prima invece del suo nemico è di nuovo Borromini che a questo punto sotto Alessandro VII è considerato un architetto gotico e quindi visto di malocchio diventa una specie di vagabondo qui vedete in questa caricatura fatta da Carlo Fontana soprattutto nella visione in piccolo vedete appunto come si presentava Borromini negli anni della disgrazia negli ultimi dieci anni della sua vita che finirà come sapete con un suicidio ma prima di suicidarsi riesce a costruire degli edifici in cui riscopre un elemento di quel prodromo di cui ho parlato all'inizio cioè la terribilità Michelangelesca effettivamente questo edificio ha una forza drammatica esalta la continuità dello spazio ma nello stesso tempo dà l'idea della terribilità e all'interno della chiesa vediamo una sintesi tra la memoria gotica e il classicismo degli elementi che fa capire come perché poi Borromini abbia colpito soprattutto la fantasia nordica producendo nel secolo successivo dei seguaci di grandissimo livello nel mondo miteleuropeo ultimo sfregio nei confronti di Bernini è questo stemma appiccicato su un angolo del palazzo di propaganda fide con le orecchie d'asino è un stemma che fu appunto rimosso proprio perché si volle vedere questo insulto nei confronti della casa di Bernini che stava proprio di fronte quindi diciamo un episodio di questa inimicizia ecco qui vedete ancora tra le ultime opere di Borromini il campanile di Sant'Andrea delle Fratte e il Tiburio che Borromini pensava coronato da una struttura che sembra un po' una profezia del cemento armato effettivamente ci voleva nervi per realizzare una cosa del genere io ho cercato di rappresentarla in assonometria per farvi capire sono delle membrature autonome che probabilmente Borromini pensava di realizzare come realizzò quelle dello stemma finale del campanile con una tecnica di muratura armata cioè di metallo rivestito poi di mattoni e di stucco certamente se Borromini avesse scoperto il cemento armato ci avrebbe continuato a sorprendere l'ultima delle sue opere che è la facciata di San Carlino in cui questa idea di plasmare lo spazio attraverso la curvatura trova una sintesi in questa silusoide che per la prima volta appare nella storia dell'architettura alla fine del seicento un altro grande architetto è Carlo Reinaldi e nei suoi confronti che Argan scriverà che in un certo senso questa chiesa è l'espressione piena di questa laicizzazione dell'architettura che non tende più a rappresentare delle entità astratte dei concetti ma si propone invece di parlare di rivolgersi all'interlocutore quindi in qualche modo anticipando il senso dell'architettura moderna questa è la chiesa di Santa Maria in Campitelli c'è un ritorno alle forme classiche ma diciamo dopo l'insegnamento di Borromini che viene riassunto in una visione che potremmo definire moderata che trova espressione anche in questa bella abside di Santa Maria Maggiore o nella facciata della chiesa di Sant'Andrea delle Valle in cui Reinaldi inserisce un elemento che potremmo definire surrealista questo angelo che al posto di una voluta sorregge la spinta della facciata e appunto da un senso di realtà qui abbiamo ancora alla fine del Seicento Martino Longhi il Vecchio ma il giovane che costruisce una chiesa dei Santi Vincenzo e Anastasio proprio di fronte a quella che sarà la Fontana di Trevi ancora dei palazzi che esprimono il tardo barocco questo è di Giovanni Antonio De Rossi uno dei primi architetti che sente in profondità l'influenza di Borromini questo è Carlo Fontana che avrà una funzione strategica nel diffondere diciamo il verbo del barocco romano oltre Alpe attraverso diciamo le persone che venivano a studiare nel suo studio tra cui Fischer von Erlach e Gibbs per esempio due grandi architetti che hanno portato qualcosa del barocco romano in Inghilterra e in Austria ancora Carlo Fontana di cui abbiamo visto anche il palazzo di Montescitorio questa è una cappella qui abbiamo il Gerardi che esprime esuberanza in questa visione luminosa e qui passiamo al 700 la prima metà del 700 utilizza l'esperienza barocca proprio per imprimere sulla città in modo sistematico questo segno questa leggerezza che è la conquista del barocco nel 600 qui vedete un'immagine del Vasi che fa capire come la compagine urbana sia molto fitta e però dotata poi di spazi di respiro qui vi faccio vedere alcuni esempi che dimostrano la popolarità del linguaggio barocco cioè anche dei piccole iniziative edilizie come quelle di una casa unifamiliare restano incompiute ma vogliono avere quel segno di grandiosità e anche quel segno di dolcezza che caratterizza il linguaggio romano in modo particolare è la finestra che diventa lo strumento espressivo di un'architettura che vuole celebrare la vita e quindi in questo caso diciamo offrire alla figura umana delle cornici entro le quali trovi adeguata espressione ecco una coppia di finestre che come vedete si arricchiscono di una decorazione semplice ma estremamente gustosa e si appoggiano sul marcapiano che è l'elemento distintivo dell'edilizia civile barocca un'altra espressione tipica di questa popolarità sono le madonnelle agli angoli delle strade ecco poi la pittura sull'esempio di Pietro da Cortona conquista sempre nuovi spazi questa è la volta di Sant'Ignazio in cui padre Pozzo riesce come vedete a realizzare l'infinito attraverso un'immagine estremamente suggestiva che gioca su una tavolossa di colori squisitamente settecentesca questa contrapposizione dei toni freddi del cielo con i toni caldi dei gruppi rappresentati è effettivamente un'espressione di un nuovo gusto che avanza e che troverà espressione anche nella città un altro degli edifici delle opere pubbliche importanti che vengono costruite a Roma nel settecento è il porto il porto Tiripetta che qui vedete in una immagine vivace arricchita dalla presenza delle barche che attraccavano nei pressi è opera di Alessandro Specchi un architetto di qualità ancora non sufficientemente studiato ma di cui si conoscono parecchie opere e soprattutto la preziosa opera di Incisore che ha permesso la pubblicazione di un'opera veramente tipica del barocco romano lo studio d'architettura civile in cui quasi tutte le grandi architetture di Roma sono rappresentate meravigliosamente attraverso delle incisioni in modo particolare diciamo l'opera di Bornomini è illustrata in modo tale da poter essere esportata e quindi in qualche modo qualcosa che ci vuole ricordare è la presenza delle riviste nell'architettura contemporanea cioè l'architettura si comunica attraverso le immagini e attraverso le immagini può esercitare influenza anche a distanza di centinaia di chilometri oltre al porto di Ripetta è la scalinata di Piazza di Spagna a rappresentare questo interesse per il paesaggio urbano che viene partecipato a Roma non soltanto dal patere centrale ma anche dal potere delle grandi ambasciate e dobbiamo alla Francia l'affinanziamento di questa meravigliosa scalinata che ancora oggi è uno degli elementi più tipici della Roma barocca ancora la bellissima piazzetta del guadagno cosiddetta perché è una piazzetta costruita per motivi speculativi ma in questo caso obbedendo a un piano riempiendo una struttura di fronte alla chiesa di Sant'Ignazio è stato il Raguzzini un architetto benementano a progettare questa bellissima struttura che diciamo oltre alla piazza coinvolge la città attraverso degli elementi che rispecchiano la piazza e che la anticipano in qualche modo questa immagine riassuntiva lo dimostra altra opera in signe è La Fontana di Trevi in cui il conflitto tra il classicismo rinascente e l'impronta barocca è vivissimo ma risolto armonicamente dal Salvi che effettivamente dimostra un'abilità straordinaria barocco è anzitutto lo spettacolo di Nettuno e delle rocce mentre un'impronta classica caratterizza la stosura del palazzo mentre l'elemento centrale che è una specie di arco trionfale è arricchito da una complessità spaziale che risponde bene al compito che gli viene ha sognato di costituire lo sfondo della grande scenario del grande scena barocca che qui vedete in dettaglio in cui la discesa dell'acqua costituisce un elemento fondamentale è un'architettura quella della fontana di Trevi che si preoccupa di coinvolgere il tempo questo è un aspetto che non ho finora sottolineato del barocco attraverso la sensibilità spaziale si rivela anche una sensibilità nei confronti del tempo per cui l'edificio qui è rappresentato così com'è quando nasce ma anche come potrebbe diventare una volta diventato rovina non dimentichiamo che il barocco è nato in mezzo alle rovine e si è portato appresso questo senso drammatico e inquietante della rovina come qualcosa che sta dietro l'angolo in un certo senso ecco questa è la chiesa di 40 che è un esempio di architettura popolaresca di grande qualità questo è sempre il Sardi a San Lorenzo di Lucina questa è una delle chiese più interessanti Santa Croce in Gerusalemme che riceve una facciata che in realtà è un organismo spaziale ha un atrio come vedete di grande respiro che consente alla facciata di non essere soltanto appunto un parapetto ma di essere qualcosa che risponde a una complessità spaziale dell'organismo che sta dietro anche il rococò si affaccia nello scenario romano del Settecento abbiamo degli esempi anche affascinanti in cui il rococò vuole la sua parte cioè nella decorazione nella complessità nella irregolarità e in qualche modo irrazionalità dello scenario questo è un organo costruito da un maestro tedesco l'organo appunto di una chiesa meravigliosa come la chiesa della Maddalena in cui come vedete anche le figure sono introdotte all'interno di questo complesso meccanismo scenico completamente dorato e per chiudere diciamo il barocco si imparenta con il classicismo sceglie la soluzione della semplicità e però sente ancora il bisogno di quella complessità spaziale che il barocco aveva introdotto questo è il palazzo della consulta che all'interno nasconde questo meraviglioso scalone che corrisponde a delle esigenze distributive e quindi realizza l'abilità distributiva del barocco romano in una forma nuova che rende appunto indipendenti le due parti del palazzo che sono abitate da autorità diverse e il fuga riesce a trovare una soluzione affascinante per questo problema così il fuga darà una veste nuova a una delle chiese più antiche di Roma la chiesa di Santa Maria Maggiore con un'attenzione a preservare i bellissimi mosaici del Torriti che si possono vedere ancora appena appena toccati dalla struttura del fuga che come vedete utilizza diciamo chiaroscuro barocco e realizza un'opera in cui si fonde bene la sua aspirazione all'ordine e questa ricerca chiaroscurale così viva presente anche nel bellissimo Palazzo Corsini che come vedete si sforge verso il giardino e partecipa della qualità e della ricchezza scenografica del giardino quindi un'ulteriore espressione del rapporto tra natura e architettura ed ecco lo scalone di Palazzo Corsini con queste trasfarenze affascinanti che consentono di sentire questa complessità anche nel salire in uno dei tanti canali offerti come possibili per ascendere ed ecco la chiesa di San Giovanni e Laterano che costituisce in un certo senso la chiusura del barocco c'è ancora qualcosa della ricerca del classicismo berniniano ci sono le statue che stabiliscono un rapporto dinamico con il cielo ma l'impianto come vedete è un impianto rigorosamente classico e la chiusura proprio del barocco va ricercata nella presenza di Piranesi Piranesi è uno degli architetti più interessanti del suo periodo storico ha poche occasioni di lavorare come architetto una delle rare occasioni è quella di completare il restauro borrominiano di San Giovanni e Laterano di cui vedete un disegno in cui gli elementi borrominiani sono conservati quasi imitati con grande delicatezza a costruire una continuità che rappresenta l'apprezzamento di Piranesi per il barocco in effetti il dialogo che Piranesi scriverà sull'architettura esprime proprio questa complessità della sua ispirazione ma Piranesi rappresenta in un certo senso la fine la chiusura di un momento storico determinato una chiusura che si può leggere molto bene in un'immagine simbolica è come un carro un carro sacro che si allontana un momento storico in cui la città ha vissuto un momento felice di grande partecipazione diciamo a un ideale religioso di tutta l'arte del tempo un momento che ha saputo lasciare un'eredità importante alla città quella che poi ha determinato il suo fascino durante tutto l'ottocento e il primo novecento quella città che noi abbiamo visto ancora libera dal traffico respirare tranquillamente che oggi vediamo pressa dal traffico e in qualche modo appunto costretta a vivere una vita diversa da quella che viveva un tempo ecco io credo che questo racconto perché ho cercato di fare un racconto che potesse coinvolgervi su questo momento della storia della nostra città sia un grande insegnamento per tutti cioè è importante che l'arte faccia la sua parte e l'arte fa bene la sua parte quando si batte per la libertà ma si batte per la libertà di tutti in un certo senso non soltanto degli architetti o di chi in quel momento ha il potere in mano una libertà che si misura attraverso il coinvolgimento e la partecipazione io mi auguro appunto che la città di domani possa tener conto di questa grande esperienza nei suoi aspetti negativi e nei suoi aspetti positivi e possa farci ritornare a un momento in cui ci sia piena sintonia tra l'arte e diciamo la vita della città il barocco è stato una celebrazione in profondità della vita ha cercato di amplificare la nostra visione del mondo e di renderla così ampia da passare dal visibile all'invisibile il barocco quindi ha offerto molto a chi ha vissuto in quel periodo storico anche se è stato un periodo in certi momenti tragico un periodo in cui c'è stata una peste in cui c'è stata una lotta fratricida ecco basti pensare che quando Berlini ha costruito la fontana quella straordinaria cosa che noi ammiriamo oggi che porta la natura al centro della città Pasquino reagì fortemente con una Pasquinata tra i più celebri altro volemo che guie fontane pane volemo pane 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 grazie 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 a tutti